I medici predisponevano i certificati attestanti false patologie dovute ad incidenti inesistenti e gli avvocati curavano le pratiche per il risarcimento danni. Ma non l'hanno fatta franca e sono stati rinviati a giudizio in 62 dal GUP del Tribunale di Bari, Anna Chiara Mastrorilli. L'accusa aveva chiesto il rinvio a giudizio di 87 persone, con l'accusa di truffa ai danni di compagnie assicurative. Prosciolti gli altri 25 imputati, in alcuni casi per prescrizione dei reati, in altri per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste. A processo, a partire dall'11 febbraio 2015, dinanzi al Tribunale monocratico di Bari, saranno due avvocati, quattro medici e decine di presunte vittime di incidenti stradali. Dalle indagini della polizia risultano accertati oltre 40 episodi di presunti falsi incidenti tra il 2006 e il 2008 in alcuni comuni della provincia di Bari, in particolare Abinetto, Toritto, Grumo, Apula e Modugno. In alcuni casi si tratterebbe di cadute accidentali causate da buche nell'asfalto. Nel procedimento si sono costituite parti civili e 15 compagnie assicurative truffate e il comune di Grumo, Apula. Grazie.